dopo una giornata di camminato e soltanto il matera grumentum in testa alla classifica a punteggio pieno decisiva la rete di cordisco a tre minuti dalla fine per piegare il melfi dopo il botte risposta tra falco e suriano seguono a quota 4 punti ben 6 squadre il mondescaglioso che batte il brienza per 42 così come la vultur che batte 31 il latronico il real senese non va oltre lo 0 a 0 contro l'elettra marconi stesso punteggio per il castelluccio che sbatte sul muro del ferrandina 1 a 1 tra paterni come vela ospiti in vantaggio con di francesco alla fine della prima frazione di gioco padrone di casa che riescono ad imbattare con pascuzzo ad inizio ripresa stesso punteggio quello tra pomarico e policoro con i locali che passano in vantaggio con ranieri poi i lionici ad un minuto dal termine riescono a pareggiare con giovagnoli primi tre punti del camminato anche per il reattorve che cala illettris al moliterno con dinisi calderoni e gilfone peppe de stefano una vittoria tranquilla scontata per molti versi un inizio però impacciato poi in sette minuti tre gol ma sono quelle partite che sono difficili da preparare perché sai che è soltanto un risultato a te a disposizione è vero che all'inizio i primi dieci 12 minuti il loro centravanti ha allungato bene la squadra dell'atronico e quindi ci siamo allungati appena poi abbiamo ritrovato le geometrie è uscito fuori il valore della squadra sono dispiaciuto per perché abbiamo secondo tempo gestito troppo la partita abbiamo presa sotto gamba e niente si poteva fare molto molto di più secondo tempo una fase di maggiore rilassamento poi troppe tre ammunizioni negli ultimi 20 minuti perfetto mi hai anticipato e niente in queste squadre poi abbiamo dovuto fare dei cambi perché c'erano degli uomini acciaccati per non rischiarli per non stressarli sugli infortuni che avevano già recuperato come ha messo salcino centrale e prisco a destra abbiamo perso un po un po le misure purtroppo quando tu vai a toccare il cuore della squadra gli equilibri si spostano però sinceramente non è che ci hanno impensierito più di tanti qualche palla lunga ma sono contento soprattutto del primo tempo il secondo tempo abbiamo trattarellato come spesso capita in queste partite. Tutto secondo pronostico però qualche rimprovero particolare? Sì il rimprovero è che qualcuno pensa che la prestazione è determinata soltanto e segnata in maniera positiva soltanto se realizza un gol io credo che il peso della squadra deve essere equilibrato non si può pretendere che molti altri compagni corrono per 3-4 compagni che pensano soltanto alla fase offensiva io credo che in questo dobbiamo migliorare anche gli equilibri all'interno dello spogliatoio devono essere ben chiari qua siamo tutti sullo stesso piano chi merita gioca e chi pensa di dover fare la prima donna credo che abbia sbagliato indirizzo perché io personalmente ho una grossa responsabilità una società che ha investito molto e questa cosa non la permetterò quella che è successo il secondo tempo. L'ultimo regalo della società l'arrivo di Francesco Grie con giocatore di valore una freccia in più nell'arco. Assolutamente sì l'ho voluto fortemente perché per dare anche un segnale alla squadra che forse pensava o pensa che la società non è pronta ancora ad andare sul mercato il presidente me l'ha sempre detto se io ritenesse opportuno di dover ancora ritoccare la squadra lo possiamo fare però è anche vero che gli equilibri poi all'interno dello spogliatoio non si devono perché quando hai 13-14 titolari poi diventa anche difficile gestire però sta all'intelligenza del gruppo dei ragazzi di capire che siamo tutti importanti e nessuno indispensabile. In ultimo dopo una settimana di amalgama in più cos'altro ancora da rivedere e da correggere? No, noi dobbiamo recuperare tutti gli effettivi. Oggi mancava Montenegro, un pilastro della difesa mancava Dacierno che è un attaccante importante per noi. Quindi noi dobbiamo recuperare tutti gli effettivi e niente, è giocarcela partita per partita. Poi alla fine vedremo questa squadra dove sarà. Io sono convinto che ce la giocheremo fino all'ultima giornata. Qual è stata l'indicazione più utile di oggi? Di oggi che c'è tanto da lavorare. Nei singoli dove non si capisce quando scaricare la palla quando trasmettere la palla, quando tenerla nella gestione della partita perché non sempre si possono gestire le partite si debbano anche chiudere in maniera più netta. La nota positiva è che abbiamo preso un mezzo tiro in porta e in 4-5 partite ufficiali anche domenica scorsa dove si pensa che il Mondescaglioso sia, almeno leggendo l'articolo della nuova sembra che ci abbia massacrato. Ha fatto un colpo di testa su un calcio d'angolo e una ripartenza sul nostro errore. Poi azione del Mondescaglioso io non ne ho viste. Anzi, forse noi nel secondo tempo abbiamo creato qualcosa di più e forse abbiamo sbagliato o l'ultimo in porta, la conclusione o l'ultimo passaggio. Quindi io sto sereno perché la squadra c'è, la squadra deve soltanto crederci e dobbiamo continuare a fare le vittorie che poi danno la convinzione e la mentalità vincente. Giacomo Lanza, allenatore del Latronico. Dunque un esordio in casa purtroppo con una sconfitta. Come la commentiamo? Sì, purtroppo ci sta. Noi siamo in fase di organizzazione ancora, anche se sul piano organizzativo del gioco stiamo cercando con quelli che abbiamo di creare una mentalità giusta per affrontare un campionato. Per il momento va bene così. Noi cercheremo più avanti di fare del nostro meglio per fare punti. Poi oggi affrontavamo una delle big di questo campionato di eccellenza. Quindi il risultato per noi era importante tenere testa e crescere di partita in partita. Era esattamente come se l'aspettava questa gara? Sì, sì, sì. Io ne ero un'ottima squadra. Credo che farà un ottimo campionato. Troppo forte la Vultur o troppo debole il Latronico? No, il Latronico sta iniziando a muovere i primi passi. Tenete conto che non abbiamo fatto neanche un amichevole e quindi le nostre due amichevole sono state le partite di Coppa Italia e la prima di campionato. Oggi per noi è stata un'ottima prova dove si vede soprattutto nei primi 20 minuti abbiamo fatto un'ottima partenza, un'ottima gara, abbiamo fatto un ottimo approccio. E' il secondo tempo per la tenuta che abbiamo avuto nei confronti di una squadra come la Vultur. In base alle decisioni della società che stagione sarà quest'anno? Io credo che vorrebbe essere di una salvezza tranquilla. Speriamo anche di più. Ci aspettiamo una salvezza tranquilla e se possiamo fare qualcosina in più. Cosa chiederà la società per rinforzare eventualmente la Rosa? La società sa quello che deve fare, lo sanno bene. Io da parte mia sto con la squadra e giorno dopo giorno siamo partiti un po' in ritardo. Però la società sa quello che ci vuole e cosa deve fare. Non c'è bisogno di dirlo, credo, perché è una società che sono quasi dieci anni che è in categoria. È la massima in categoria della Basilicata, quindi sa cosa ci vuole. Siamo alle prime partite. Mister, come ha visto la Vultur? La Vultur è una squadra ben organizzata. Credo che, secondo me, possa fare un campionato importante. Quali sono, a suo modo di vedere, in chiusura, le pretendenti alla vittoria finale, al salto di categoria? Ebbè, il Grumendo Matera, Melfi, Vultur e poi c'è da vedere il Mondescaglioso che ancora non l'abbiamo visto. In promozione, come in eccellenza, c'è soltanto una squadra al comando dopo sole due giornate. Ed è l'Angelo Cristofo Roppido che vince a Vigiano per 3 a 1. Decidono, cilla su rigore una doppietta di Leone. Per il Vigiano, c'è soltanto Lombardi nel finale di gara. Invece, c'è una situazione simile. Molte squadre a 4 punti e sono Tricarico, Atletico Mondalbano, San Gataldo, Marmo Plata, una città di Sassi Matera. Nello scontro diretto di giornata tra San Gataldo e Città di Sassi Matera è soltanto 0-0 il finale. Mentre il Tricarico, nell'altro big match di giornata, si ferma sull'1 a 1 con l'Atletico Mondalbano. Fanno tutti i padroni di casa che vanno in svantaggio per l'autogol dell'allenatore giocatore Armendo. Poi la rimettono in gara con soldo. Il Marmo Platano, invece, non va oltre il 2 a 2 in casa della Viribus Potenza. Prima vittoria stagionale per la Tella che con la doppietta di Rinaldi supera la Libertas-Montescaglioso. Bella partita, invece, quella di Tito dove la squadra di casa sotto di 2 a 0 nella prima frazione accorce di distanze. Poi subisce l'1-3 ma nel secondo tempo dilaga con un 5 a 3. tutti i gol segnati nel finale. Ed è l'esploat della Santa Arcangelesi, invece, a Vigianello con Appella e Lacanna a chiudere questo programma della seconda giornata di campionato.